Stefano, dopo la vittoria con lo Spezia, una partita delicatissima, sabato a Liberati di Terni, incontrerete una squadra carica dopo il successo nel derby con il Perugia? Sì, assolutamente. La Ternana forse è una delle squadre più in forma del campionato. Dovremmo andare lì a fare una grande battaglia perché è appunto uno scontro diretto e non possiamo sbagliare. Una squadra che ha raccolto tanti punti dopo l'avvento sulla panchina rosso-verde di Gigi De Canio. Sì, anche lì appena hanno cambiato il mister non sono cambiate subito le cose. Ci hanno messo un po' di tempo a carburare ma nelle ultime stanno facendo veramente grandi cose. Poi hanno appena vinto il derby che è molto sentito dopo le parti. Tra l'altro rimonta quindi vuol dire che è una squadra in salute e sarà veramente dura. Con l'avvento di Pilon sulla panchina del Pescara si sta rivedendo il miglior Pettinari. Perché ti chiedo? Io l'ho già detto altre volte. Il mister ci ha dato una scossa, ha toccato i punti giusti e sin dalla prima partita col Palermo siamo andati lì a fare una grande prestazione. Poi anche con il Bari abbiamo fatto bene e poi finalmente è arrivata questa vittoria. Quindi sicuramente sono cambiate le cose per la squadra e di conseguenza anche per me. Con il Bari e con lo Spezia all'Adriatico si è vissuto un clima diverso rispetto alle precedenti partite. Un grande pubblico, una grande curva nord che ha spinto la squadra dal primo al novantesimo. Importanti anche gli applausi del novantunesimo della gara con lo Spezia. Cosa è cambiato anche da questo punto di vista? Sicuramente hanno visto un atteggiamento da parte della squadra molto più propositivo. Penso che sono sotto gli occhi di tutti. Poi non è un caso che siano arrivati anche due risultati molto positivi. Quindi siamo stati bravi noi a trascinare il pubblico e anche loro a sostenerci per tutta la partita. Ternana Pescara significa anche il ritorno di Stefano Pettinari a Liberati. Lo scorso anno nella penultima gara di campionato con una tua doppiesta arrivò la salvezza della Ternana. Dunque bei ricordi per te. Sì, assolutamente. È stata una salvezza con una rincorsa incredibile perché nelle ultime 11 partite abbiamo fatto 27 punti. Poi abbiamo incontrato nella penultima la Spal prima in classifica. Siamo andati anche sotto, poi ho fatto due gol e siamo andati poi a vincere l'ultima partita ad Ascoli. Quindi bei ricordi e una salvezza raggiunta all'ultimo.